diaframma variabile è un podcast che racconta le varie sfumature della fotografia e di come si sia adattata alla società rappresenta il mondo con gli occhi dei fotografi espanderò il concetto di scatto in maniera più liberatoria vi parlerò di uomini e donne che hanno contribuito alla rivoluzione fotografica e di come alcuni scatti siano diventati iconici questo è diaframma variabile